La solitudine brucia l'anima, noi non siamo soli e a volte Dio non basta. Lo sai qual è il peccato più mortale di tutti? È quello contro la speranza. La chiesa è come la terra, la devi lavorare ogni giorno, ogni mese, ogni anno, se no marcisce e muore. Sei rimasto solo Andrea, il tuo paese ti ha abbandonato, la tua gente ti ha abbandonato. Don Paolo, Don Paolo, Don Paolo, tu non sei più prete? Eh no, io sono prete. No, io sono prete.